FIFA 18 C'è la prova dei due giudianti che non farò perché non voglio spoilerarmi nulla perché poi inizierà la serie il 21 settembre Nala forse no, FIFA 18 FIFA 18 Mettete sul letto, ma che può stare sul letto e nessuno rompercazzo? Scusa eh Io prendo la Juve la prima, dai perché voglio provare nuovi acquisti Dai, equilibrata Equilibrata Ah, è verso il sito di veloce Dai, c'è una situazione rapide Chi è questo? Cicci Dio, non c'ho un cicci Germania, sarà Chiedira Chiedira, sì Beh, è una demo, è una demo, facciamo pinta di nulla Lola Batte dal centrocampo come il nuovo metodo Pazzesco, si parte Vediamo un po' come questo La fluidità FIFA Che poi in realtà è anche un botto che non ci gioca FIFA Quindi non so Ma è normale che ci sia ancora le cose lì Non spoiler un po' l'avversario dove ti stai indirizzando Ma secondo me Trantello Uh, com'è andato zio? Eh, lo sapevo che sbagliavo il tempo JJ No, è parla piena eh Ha dato una regola del vantaggio ambigua Adesso la passo qui in basso Vediamo se ne... Ha indovinato, wow C'era un rigore netto paio ventus eh Dov'è la VAR? Ma proprio netto eh Dov'è la VAR? Che brutta difesa che ho fatto Occhio al tiro C'è da lì Che brutto 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 tiro Dai, vai così Bello così Al volo incredibile E la fa mettere signori Un 1 a 0 Con una grande azione Era una grande azione Sì Fino al rimpallo Che poi hai rovinato Fino al rimpallo Una grande azione Grandioso Una Juve un po' più le gambe Grandioso Mi irritano tutti indicatori No, pure a me Mi danno molto fastidio No Vaffanculo Vaffanculo Cazzo adesso Siamo tornati a giocare a FIFA In creepy Eh, che cazzo Mi dava veramente un urto Quella cosa lì Gio, ho rotto il cazzo Però adesso Fatti calmo Senza l'indicatore Ti faccio tragole adesso L'hai detto eh Per forza Per forza Erano proprio quelli Che davano quel problema Cazzo che parla Due gli skill Eh sì Ma non so come siano Cioè Ho fatto la skill di prima Non ha funzionato Non ha funzionato per ben due volte Tra l'altro Che filtrante è No Non ci credo JJ Ah JJ Dai Dio Come sei andato JJ Non lo so Io ho visto solo che saltava E succedevano cose Wow Che sombrerito E in mezzo a tutti Ok Due gol belli nella creazione E brutti nella conclusione Perché sempre rinparliano davanti Però Eh quest'anno hanno tolto un po' di più lo skill Cioè fatica a coprire palla Ma che cazzo Wow Non è reattivissimo nell'L2R2 Rispetto allo scorso Che è una cosa uber buggata Bisogna prenderci un po' l'abitudine Questa L'ho stato proprio Ah wow Oddio Devi veramente stare calmo Perché non mi aspetto Non mi aspetto questa tua Però Te l'aspettavi? Te l'aspettavi? Questa super positività Te l'aspettavi? No no Infatti ha detto Ok 1 a 1 Prima parita di test Abbastanza equilibrata Equilibration Penso se facciamo tutto il video Tre partite col trainer No poi dopo mi veniva Succidami Esatto Perché scoprivi come si è venuto Agitalo Eh vabbè Ho fatto fallo a me stesso Può andare Ok Fabregas Fabregas La parata non ci crede Quanto attarellava Fabregas è fortissimo Non è così veloce Nella realtà No Però è fortissimo Non ho ancora fatto un'azione centrale Ricordiamo No Te forse ho tentato prima No Douglas ha visto Di balò Eh L'errore difensivo C'è Vedi l'errore fondamentale L'errore fondamentale Subito Il centrale Che è di bala Abbiamo appena detto Non siamo ancora Passaggi Da centralmente 2 a 1 Dopo un inizio bruttissimo Col trainer Tutta colpa del trainer C'è Vai dammi Ovviamente quei try harder Come dread è impossibile Schillare Eh vabbè Ma che campera Ma che vuoi Che devo fa No Eh eh Vai così Eh La metti Oh Era bello questo eh Oh Fabregas Sta da per tutto Sì è fortissimo Ehi Ehi Sei andato via bene È un gran gol Holy shit Morata L'ex del giorno Gran gol Di moratina eh Sono proprio andato al bar qua Incredibile Un 2 a 2 È spettacolare 5 minuti alla fine Non c'è spazio Iguaiiii Iguaiiii Senti Paolino No Fatti Paolino Dai Manda al bar Davinino Dato al bar Coppietta di Dybala Ormai non c'è più tempo Tutti in difesa Camperà E finisce Questa è fatta brutta Questa l'ho sentita Proprio Finale brutto Tra lo sterno Tanto che ti dico Che la rivincita Ti concedo Dato che Ti faccio scegliere Sia la tua Che la mia squadra Non il Toronto C'è l'Atletico Non il Vista Il Cobb Real Atletico Un classico Classico madridista Classico madridista A posto La bombonera Signori Vediamo un po' com'è Un clima Del tutto Sudamericano Guarda con i coriandoli Sì Il coriandolo Non è personalised Non ci ho fatto caso Però va che artistico Va che Un'ambientazione Completamente diversa Di giorno È qua Con noi Antoine Antoine Ma L'ha presa Con una parte di mano Che non c'è L'ha presa al portiere Savage Forse no Coke E' fermato Lì No Bello Bello Ma il portiere Comunque Sul suo primo palo Poteva No Chi è che l'ha fatto Gabby Gabby di Squared Gabby di Squared E lui Ha visto l'inserimento Comunque Vabbè Era un po' Messa lì Nella grafica della liga Sei più forte Yannick Fagli vedere Il tuo cazzone enorme Sì Yannick Aia No Ma cosa Raph Ma cosa Raph Buono Perché non è salito Quello lì Ho fatto Cafferosi Pensavo Cambiamo Vedo un atletico Veramente carico Beh sì Ma che ti rifanno Cazzo Che ti rifanno What C'è Tira pure io Da centrocampo Dai Rimpallino Colpo di Dago Sì Ma che bomba Tirato Atletico Reggiamo Che qua Forse è stato A bit of luck Non ci mettiamo a scartare Oh No Sì Fantastico Sì Così la para Oblak Ma che passaggio Era Oblak Si estena Dai col braccio Dietro Oblak è fortissimo Tonino Oh c'è un raga Peronaldino Funziona ancora Non l'hanno sistemato È un tutorial Su come segnalare Sul calcio d'angolo Se la guarda E sorride E sorride Perché dice Ho baggato Lo so Vai Giovanni Franco Giovanni Rana Giovanni Franco Con quale potenza Filippo Luigi Filippo Luigi è nuova Vediamo se Tenta la replica Perché a me non entro Mi stai dicendo Che ci sarà Un altro gol Da calcio d'angolo Lo metto qua Goal Goal Fallo E gol Ok primo tempo Santo Dio Dai Dai Benzema 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 No dove va Oblak Ma che palle Oblak c'è Regà dove cazzo è La mia squadra Vai Oh Come on C'è c'è un possesso palla Modric 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 E secondo che mi fai così che ti rigiri con la sua letta No qua non ho girato la sua letta Ve lo fa una finta Ve lo fa una finta E poi è cross È cross È cross È cross Si è teletrasportato Non ho fatto questa Ho fatto quella di prima Grande così Ronaldo È dal ventunesimo che la mia squadra è inesistente Ronaldo Eh Ronaldo Dai lo so che puoi vincere questo scontro Vai Ronaldo Vai Ronaldo Vai Ronaldo Vai Ronaldo Ronaldo Esci purtroppo Pollo Cristiano Ronaldo La mette La mette Al novantesimo Ancora come prima 3 a 2 è invertito Al novantesimo E quindi Johnny Greek style Tutti in divisa In rimontone L'atletico è imbarazzante Dai Finisce qui La rivincita Ora diranno che questo video è fake Perché abbiamo fatto 3-2 3-2 Ma signori Come ha fatto Io vi posso assicurare che Buon Ronnino Ne ha presi 3 E l'ultimo al novantesimo E quindi ne faremo una Pari St. Germain Manchester United Parisa St. Germain Manchester United Neymar Elììììììè Signori con un tramonto romantico No? Per l'aria un po' che tutti sognano E è guto la notte Il giorno Di un certo tipo sudamericana quarto Un giorno Un po' più all'inglese Sì quasi Molto europeo Però è il momento di Giocare come gioco tryhard done Ovvero facendo una melina snervante Potrei fare anch'io Potresti farlo anche te Se riesci a prendermi la palla La rotola bene di qua Tacco per Cavani Shielda Non va Shielda che cos'è Hai two shields Ho shieldato bene Fai un gran power shot From out there Porco che gol Questo è two shields Gran calcio in questa sfida Milano romana Qualcosa con il buon Neymar Con quanta velocità ha cambiato La versione Rabona Gol Me l'andavo Comunque da dire che da fermi Sono un po' più Statici Ci fa fatica a prendere velocità Come era passato Fa fatica a prendere velocità Michele Ponti Può andare L'ha visto sul secondo Lo vede E lo tira al volo Questo è un gran contropiede Una grande azione Un grande cross Un tiro di merda Che è entrato Non si sa perché Li vedo male i portieri Signori il primo tempo No uno Eh ti lanci L1 triangolo Stanno funzionando più da normale No dove vado 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 Non funzionano più i passaggi Lì 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 E io Sei tutti in più di bene C'è quel gigante lì C'è Neymar No cazzo non so di muoversi Neymar Mannaggia Lukaku Bello eh Bello Lukaku Non si può spostare È una montagna No ma ci stanno Sti lanci che poi la stoppano E arrivano infinitamente lungo Oh Neymar GDMalo Potevi anche tirare in effetti No da lì no È impossibile Però con Atem Da qua sì Orko 2 che fuggilata De Gea è De Gea comunque 90 di portiere Momento di tryhardare Contro Dread Momento di starlo Berfa Oh figa sì Tutti te le hai trovati poteri Senti prima Oblak Ne vogliamo parlare di Oblak Oblak era un buon portiere Cavani Zì E De Gea Lancialo Intramontabile De Gea Siamo lì No sì Oh Oh Dai Ma che c'ha in porta E gli ho tirato in bocca E gli hai tirato Eh gli ho tirato in bocca Stava arrivando tutta la difesa Ero di fretta Fammi fare il contropie No Finisce qua Finisce in pareggio Classico Fino alla fine della morte Devils Incredibile Mostruosi Mio Dio Mio Dio Santo Dio No gli errori difensivi così Minchia Minchia Aiuto Vai Mamma mia Creativa questa cosa È molto creativa È buono? No È buono? No Zio c'è in porta mandrake Ogni volta di più Nonni Lì Ancora No Cavani Vai Cavani No Ma dai Un altro angolo È un assedio folle Non ha senso Non ha senso No L'ha toccata ancora No 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 Hai il portiere più forte del mondo Raga Verratti Porco Io non ci sto credendo E niente Raga Finiamo i rigori Ma per me Non era meritata questa cosa Non devi avanzare Sì non devi avanzare Ok No c'è il puntatore zio Non te l'aspettavi Non te l'aspettavi È diverso Perché continuo ad andare avanti con la levetta Io Cazzo Dio Non so come si tivino esattamente Under Herrera Questo è uno scarpone raga È uno scarpone Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Neymar Time to shine Neymar Time to shine Neymar Boh De Gea Che pitone 220 milioni di merda Questa bocca La mette sotto al 7 No Per niente Non era proprio sotto al 7 Angelo Di Maria Angelo Di Maria Di sicurezza Insicurezza Il piattino Se la paro ho vinto Credibile Vinciamo Campionato del cazzo Stavolta entra La seconda volta è entrato Non pensavo La seconda volta è entrato Tu pensi che ora lo faccio anch'io Boh Eh Boh Pensi che io lo faccia Vabbè signori Vince il Manchester Vabbè signori Comunque tre partite Ricche di emozioni Noi dobbiamo comunque Imparare a giocare A un gioco Che è simile a quello vecchio Ma insomma Ha delle meccaniche differenti Comunque speriamo Che vi sia piaciuto Quanto meno per lo spettacolo Perché quello non è mancato Vi invitiamo a lasciare Un bel mi piace Raggiungiamo i 30.000 Per questo inizio Con FIFA 18 Anche se comunque Ci sarà ancora Una piccola parte Di FIFA 17 Con FIFA obiettivi E poi Arriveremo E poi ci sarà un percorso Un percorso di Alex Hunt Che è il gol brutto Che hai fatto Era una grande azione Inizieremo con il Deggio E tutto il resto E quindi niente Grazie a tutti quanti Laga Alla prossima Da Ron e dal Trend Bella Bella Ciao Grazie a tutti.